Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca and I'm excited to announce season 4 of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro. 11 rate da 139 euro. E rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Pezzone di Ketama. Pezzone. Pesante. Bello. Non si pente perché non si torna indietro. Non è che non mi pento perché le scelte mi hanno dato cose che poi ne è valsa la pena. E magari c'è anche questa variabile. Ma perché tanto non si torna indietro. Quindi è inutile pentirsi. Questo diciamo è uno dei concetti che ha espresso. Il discorso dell'Armageddon è comunque relativo al fatto che domani può finire tutto veramente. Si intende che domani può arrivare la morte di ognuno di noi. E questo è il concetto. Fondamentalmente. E quindi lui spinge all'eccesso. Perché? Perché sta pagando il conto. Lui qui sembra quasi che dà consigli. Ho fatto i miei errori. Non fare lo stesso. Non è che ti sto dando un consiglio a te. Io mi sto sfogando perché sto pagando il conto della vita. E a volte sono depresso. Dice. A volte. Non lo so. Insomma. Anzi. Penso di sapere. Ma non ha la spocchia. Voglio dare consigli. No. Io sto dicendo. Sto esprimendo quello che sono. Perché appunto. Cito il testo proprio. Faticoso. Dice che si sente solo nel testo. Perché è il prezzo che paga chi rimane se stesso. E quindi. E che dobbiamo fare? È lì. È un canto di dolore. Reale. Messo però. In una situazione. Che non è la classica menata. Lui suona molto moderno. Lui è moderno. E questa è la sua forza. Cioè lui ha preso un concetto vecchio come il mondo. Perché. E viene dal mondo. E quella parte. Diciamo. Dell'essere umano. In basso. Che ognuno. Che ogni essere umano. Ha sentito. Ha provato. È l'ombra di noi stessi. Sta parlando di una zona. Che abbiamo visto tutti. Almeno una volta. C'è chi però mette il paraocchi. E chi invece. Non la nega. C'è anche questa roba dentro me. Ketama ci si affonda. Perché è una personalità. Molto. 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 Sensibile. E. E io. Forse. Veramente non l'ho capito. I primi tempi. Che l'ho anche criticato. Cioè. Dicevo sempre. Mi piace di lui lo stile. Ma. Ma non mi piace. Come lo sfrutta. Come lo usa. A volte. Insomma. Ho anche. Attaccato un po' di. Di cose. Però la verità. È che. Più passa il tempo. Più lo scopro. Più matura. Ecco. Ci voleva. Diciamo. Una bella fetta di successo. Affinché lui. Se ne stancasse. E poi. Si mettesse. Nella condizione. Di dover raccontare. Il. La sua condizione. Il suo dolore. Così. In questa forma. E sembra la fine del mondo. Perché. Lo senti. Che un ragazzo. Che ci flerta. Con la morte. Con la consapevolezza. Di questa. Lo senti. Che un ragazzo. Che ha aperto. Dei canali. Con. Eh. Come lo posso spiegare. Non è che ha aperto. Dei canali. Con. L'altro mondo. Cioè. Ha aperto. Dei canali. Talmente. Intensi. In una. In una prospettiva. Comunque. L'abuso di droga. Usata. In un certo modo. Poi ti porta. A. Veramente. Vicino alla morte. E c'è. C'è uno step. Tra la vita. E quella sensazione lì. E. E lui. C'è stato. Talmente. Tante volte. Dentro. Che ha fatto il callo. E te lo sa. Racconta bene. E. E lo vedi. Lo vedi. Negli occhi. Lo vedi. Lo senti nella musica. Che. Non va un cazzo bene. Però. Lo accetta. Maturato tanto. Come persone. E quindi. Anche la sua musica. Poi magari. Questa è roba che. Non. Non ti porta. Il numero. Che ti può portare. Una canzone. In cui fai. Oh mio dio. Mi sento male. Roba così. E' chiaro. Che. Magari. Ma fa. Un calo. Con la nuova roba. E comunque. Sono i featuring. E le vecchie canzoni. Che lo tengono in alto. Però. Questa canzone. E' importante. Secondo me. Ascoltarla. Cioè. E' una canzone. Che comunque. Ti dà qualcosa. Ti nutre. E' interessante. E' ben fatta. E. E suona bene. E merita. Quindi. Di conseguenza. E' questa la musica. Che un artista. Deve fare. Anche perché. Io stavo pensando. Vedendo ieri il documentario. Su Battiato. Lui. C'è stato un momento. In cui ha lanciato. Due o tre artiste. Con delle canzoni. Che oggi. Non. Non sarebbero minimamente appetibili. Nel mercato. Ma che erano. Fottutamente sue. Cioè. Tu lo sentivi. Dici. Ok. Battiato. Sia nell'arrangiamento. Che nel. Nel. Nel modo in cui viene cantata. E nel modo in cui è scritto il testo. E lanciava queste hit. Così. E. Quello stile là. In quel momento. Aveva presa. Funzionava. Tu potevi fare una hit estiva. Per esempio. Senza forza niente. Semplicemente facendo la hit estiva. Perché tu scrivi una canzone. Che c'ha quel mood. E quel. Capite. E questo è il discorso. E. E quindi. Sto. Sto pensando. Che un artista. C'è un periodo. In cui. Il suo stile. È particolarmente incline al mercato. E quindi c'ha la formula magica. Quando uno c'ha successo. In quel momento c'ha la formula magica. Ma è un attimo che la perdi. Ecco. Io credo che Ketama. Ha trasformato. Quella che era la formula magica. In una formula. Perfetta. Per raccontarsi. E. Chapeau. Perché. Ci vuole talento per farlo. E considerando che. Non è neanche nella fase in cui. Se la sente di cazzeggiare. Ma che la musica. In questo momento per lui. È tornata ad essere un'esigenza piena. Perché l'arte deriva dal male di vivere. E se tu vuoi fare artista. Devi stare male. Ok. Altrimenti aprite un podcast. Fate come me. Se voi ci avete una community. E volete stare a un microfono. Aprite un podcast. In cui parlate. Talk però. Perché io faccio anche progetti. Differenti. Quindi c'è nel senso. L'anima. E la sporcatura. E il male di vivere. Lo vado a rimettere. In questa formula. Ma da un'altra parte. Ma se voi non volete. Aprite un talk. In cui trattate. Teatiche del cazzo. State tranquilli. Ma l'artista. Se vuoi fare l'artista. Vuoi fare la musica. Vuoi fare il teatro. Il teatro si fa col gelo. C'era Edoardo De Filippo. E così è l'arte. Io qui lo vedo il gelo. Allora mi dà gusto. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime. Ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.